ciao ragazzi e benvenuti come state spero abbiate trascorso un buon fine settimana oggi insieme prepareremo dei biscotti al burro che potete mangiare sia per la colazione oppure per prendere un buon tè nel pomeriggio allora cosa ci serve per fare dei biscotti al burro stretti di farina 50 ml di latte mezza bustina di pan degli angeli 50 g di burro 150 g di zucchero e una bustina di vaniglina allora iniziamo subito con la nostra farina al centro mettiamo il nostro burro e lo zucchero e iniziamo a lavorarlo poi aggiungiamo il latte il nostro lievito e la nostra vaniglina e iniziamo a impastare una volta che il nostro impasto è pronto in una ciotolina metteremo il nostro zucchero di granella ma volendo ci potete mettere anche nelle tagliette di cioccolato iniziamo a fare delle palline e le immergiamo nella granella mi raccomando i biscotti non troppo vicino mettete l'uno distante dall'altro perché crescono sono facilissimi da fare e buonissimi per mancare volendo potete aggiungere anche del cacao e verranno i nostri biscotti al cioccolato adesso accenderemo il nostro forno a 200 gradi in modo che si riscalda bene e poi lo abbasseremo a 180 gradi andiamo a vedere se il nostro forno è pronto mettiamo la temperatura a 180 gradi e inforniamo i nostri biscotti a più tardi eccoci i nostri biscotti sono pronti 20 minuti di cottura ed eccoli qua ci mettiamo un piattino pronti per essere mangiati biscotti fatti da pina per voi e allora vi aspetto alla prossima mi raccomando un bacio ciao